Musica Acqua Alta e Mose a fine mese la prova generale in attesa che entri in funzione, il sistema di dighe mobili, altri progetti ci sono, lo conferma il provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone a Chioggia per il test di sollevamento delle paratoie, vediamo. Il Mose non sarà pronto per il 30 giugno, però ci sarà la possibilità di evitare altri guai come quelli che abbiamo avuto l'anno scorso. Fu il provveditore Cinzia Zincone quella notte di novembre 2019 a decidere di non mettere in funzione il Mose, troppo rischioso per l'incompiuta che si prepara alla grande prova generale il 30 giugno prossimo, salvo maltempo sarà ancora un test senza acqua alta. Allora per la prima volta verranno sollevate insieme le 78 paratoie, chiudendo contemporaneamente le tre bocche di porto e separando così la laguna dal mare. Prova del nove in vista dell'autunno. Costi, tempi, efficacia, la grande opera pubblica suscita sempre meno polemiche. Si placano per forza perché l'opera funziona, perché comunque anche se è datata rappresenta ancora un'avanguardia tecnica perché è unica al mondo. Certamente ci sono ancora tante cose da fare. Con o senza il Mose in funzione ad andare comunque sott'acqua è Piazza San Marco. Il provveditore Zincone conferma il progetto sta andando avanti, tre anni di lavori, più rapida la soluzione per la Basilica, progetto architettonico di barriere smontabili cui sta collaborando l'architetto Stefano Boeri. Vogliamo arrivare, io mi auguro di riuscirci a evitare per il prossimo autunno un nuovo allagamento e nuovi danni alla Basilica.